Senti, senti, senti che stanno arrivando, Ilaria Jolas con Mary, senti che stanno arrivando, eh? Eh? Guardale! Eh? Allora? Eh? Hai visto? Eccole qua, eccole qua, guardale, guardale! Guarda, hai visto che vi aspetta la Olli? Ciao, mamma mia, guarda che accoglienza, ciao eh, ciao eh! Ehi, ma che cosa c'è lì dentro del vino? No, Red, mi sei rovesciato in maglia a sta rosicassa buono, guarda qua! Che è questo? Se mi firmano, mi arrestavano perché... No, mi sei rovesciato, sembrava che ero un ubriacone, non mi aveva per niente. Ma cos'è vino? Eh, questo è moscato e questo è moscato rosso. Nooo! Eh, da Olli, vedi? E quello lì è per Olli? Sì! Wow, guarda, crema! Guarda, guarda, crema! Guarda, 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 guarda! Ah, è la passata delle pomodoro, guarda, guarda che bella! Guarda, guarda, con la foglia di basilico dentro eh, questa è proprio da paura questa. Ah, 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 eh, Meri, buongiorno! Buongiorno! Anzi, buon pomeriggio! Buonasera ormai! Non abbiamo il suo orario, è stato un bel pranzo, guarda. Si può? Certo. Ti seguo, ti lascio qua. Guarda, ma hai visto il tuo giochino? Hai visto? Oh, lì, ma ti piace. Ma sapevo che ti piaceva, è uguale a te. Non so più dove andare. Adesso lo devo andare a nascondere. Cerca per cercare il posto per nasconderlo. Davvero? Sì, sì. Pensa che io lo prendiamo, se no. Bene, come vanno le registrazioni? Penso bene. Eh? Bene. Quanti pezzi fate? Ancora non lo so di preciso, però pronti ce ne abbiamo 12. Però? Eh, quindi il materiale, in realtà ce ne abbiamo di più di 12, quindi il materiale c'è. più che lavora sulla quantità. Venite di qua. Guarda qua che corre, vedi. Guarda che roba. Si, si, ma è qua. Chiudo? Ho vostro appoggio acqua. Certo, certo, certo. Venite di qua. No, sì, ma lei no, Carmela, il cane nostro è un assassino. Carmela? E dove è Carmela? Abbiamo lasciato in appartamento. Ma fa casino. No. Loro sono proprio abituati. No, vabbè, vabbè. Insomma, quando esce il disco? Non lo so ancora. Cioè, i tempi, però so che il set lo finiamo. Cioè, il set è finito, tutto pronto, insomma, ecco, diciamo. Ma viene Phil Palmer? Sì. E viene il Gallo con Cicci? Sì, stasettimana sarà una bella settimana. Ma che cos'è? Eh? Che bello che è, eh? Prima stavo facendo un video, sei arrivato a te, è soltato il video, hai telefonato. Sorry. Non ci ha pensato? Donna quanto sta lavorando. Dalla roba qua dentro. È bello quel quadro lì, eh? Sì, sì. Fra l'altro, guarda, se tu vuoi, puoi vedere la sua galleria. Perché è in via d'Azeglio, vicinissimo alla Fonoprint. Davvero? E dove sta la farmacia? In via d'Azeglio, dai viali, giri a sinistra via d'Azeglio, poi dopo giri a sinistra per andare in Fonoprint. Ma è una galleria chiusa? Sì. No, è nella parte aperta, la macchina. Ah, ok. Quando si entra nella corsa, sulla sinistra c'è una pasticceria lì e poi c'è anche lì. E tu? La pasticceria sta pure là. E tu? Amore. E questo? Che bella. Insomma, questo è il tuo regno, eh? Sì. Guarda là. Ma sai che sembra più grande l'arbitro? Sembra più grande? Sì. Sembra uno spazio infinito, capito? Eh beh, certo, dipende. Vedi, anche adesso se io faccio così sembra molto più grande perché metti il gran angolo. Dipende. Sì. Ok, ok. Guarda... Quelli che sto... Ci diamo tutte... Hard disk, sì. Tutte le puntate, insomma. No, vabbè. Che spettacolo. Eh? No, no, no. E' emozionante, eh, rende tanto. Perché? Eh, perché sì. Perché è bello. Eh? Perché c'è tutto il tuo lavoro, tutta la tua energia e si percepisce. Sì. Hai visto che casino che c'è? No, sì. Allora è casa nostra. Questo è il casino. Vieni a Borgata Filocchio, eh? No, no, vi è casa nostra che è diverso. No, allora mi organizziamo. Allora vieni te. Domani c'hai il Gallo. Domani in studio. Ecc, marca puttana. Sì. Poi Phil Palmer. Poi giovedì sì. Martedì, mercoledì, facciamo le voci di nuovo. E poi giovedì abbiamo Phil che fa chitarre. Giovedì e verdi. Vi ho detto a Mary se è un sogno svegliatemi. Perché lo voglio vivere proprio. Quindi... Giovedì. Giovedì. Giovedì.